Alla vigilia della gara contro Cremona, il presidente del Pistoia Basket, Roberto Maltinti, ha rivolto una lettera a squadra staff e tifosi. Riflessioni col cuore di un presidente innamorato di questo sport, di questi colori, di questa città. Nella missiva Maltinti parla di prima vera partita, non certo dell'ultima. Mancano 26 giornate alla fine di questa stagione, ha sottolineato il massimo dirigente Biancorosso. 26 gare in cui ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte. Alla squadra chiedo il massimo impegno e dedizione a partire da ogni martedì di allenamento. Onorate questa maglia che oggi calca i massimi palcoscenici nazionali, perché chi l'ha portata fino a qui l'ha fatto a costo del suo sudore e del suo sacrificio quotidiano. Allo staff chiedo l'entusiasmo, la professionalità e la passione sempre dimostrata in questi anni. Aiutate a crescere i tanti giovani che compongono il nostro roster, perché alla loro crescita sono indissolubilmente legati i risultati che riusciremo a raccogliere. Ai tifosi faccio la richiesta più grande, stateci vicino. Abbiamo bisogno di voi, delle vostre critiche, senz'altro come spinta verso un continuo miglioramento, ma anche e soprattutto del vostro calore, dei vostri applausi, della vostra voce. Fino alla fine vi chiedo, ed è una richiesta fatta col cuore, di sostenere i ragazzi e la maglia che indossano. Ancora di più in un momento non semplice come questo. Restiamo uniti e sereni, ha concluso Roberto Maltinti, come sempre quando si parla di sport e come lo siamo stati negli anni delle vittorie e dei record. Remiamo e spingiamo questa barca verso il mare aperto, sapendo che arriveranno anche altre tempeste, ma con la consapevolezza di avere la forza per superarle. E alla fine, qualunque sia l'esito, vorrei che almeno ognuno di noi avesse la consapevolezza di aver dato tutto se stesso.